Non si spegne l'emergenza sicurezza nel quartiere Fontanelle di Pescara, dopo le numerose macchine date alle fiamme, le molteplici occupazioni abusive degli appartamenti e il continuo spaccio di droga. E non si placa neppure la voglia di legalità di chi, da anni, denuncia ingiustizie a reati facendosi portavoce del bisogno di sicurezza e tranquillità dei tanti residenti onesti della zona. Per questo il movimento politico Pettinari per l'Abruzzo ha deciso ancora una volta di scendere in strada, in via caduti per servizio, con un corteo per la legalità e contro la criminalità, tornando a sollecitare l'intervento dell'esercito, come annuncia Domenico Pettinari, capogruppo consigliare dei cittadini per Pescara, Pettinari sindaco e presidente del movimento politico Pettinari per l'Abruzzo. Domani abbiamo organizzato un corteo, una manifestazione per la legalità contro la criminalità, alle ore 17 partiremo davanti al civico 39 di via caduti per servizio, percorreremo tutta la strada con una sosta molto importante davanti al famigerato civico 15, dove solo alcuni giorni fa, a seguito degli sfratti, una mano criminale ha incendiato il palazzo mettendo fuoco all'ascensore, solo grazie ad alcuni poliziotti che io definisco eroi che si sono gettati tra le fiamme, hanno salvato minori, bambini e anziani nel sonno, che sono stati colpiti appunto nel sonno da questo terribile incendio. Purtroppo lì c'è un'emergenza conclamata e di fronte all'emergenza conclamata noi abbiamo voluto chiamare Roma, chiamare il governo tramite alcuni parlamentari che sono venuti in audizione solo alcuni giorni fa, lunedì, ai quali abbiamo chiesto di voler disporre l'operazione Strade Sicure, abbiamo necessità di fare intervenire i militari in ausilio alle forze dell'ordine per garantire dei controlli rigorosamente appiedati per prevenire questi atti delittuosi in via caduti per servizio e non solo in altre zone calde della città di Pescala. Purtroppo da lunedì noi non abbiamo ricevuto nessuna risposta, io mi sarei immaginato una risposta ai parlamentari, noi domani manifesteremo anche per dire che Roma deve rispondere, il governo deve dare una soluzione a questa grande problematica e non solo gli sfratti devono continuare e poi noi chiediamo che il comune faccia la contestuale riassegnazione dell'alloggio dopo uno sfratto perché se liberi l'appartamento e lasci l'alloggio vuoto poi tornano a sfondare infatti in via caduti per servizio qualche giorno dopo gli occupanti abusivi magari poi qualcuno, una mano che non sappiamo chi è, una mano ignota però è tornato e con una mola ha divelto la lastra d'acciaio che era di fronte alla porta. Ecco queste situazioni bisogna risolvere ma soprattutto per i tanti cittadini onesti che chiedono legalità e che non ce la fanno più a vivere ogni giorno tra violenze, soprusi, angherie e grande oppressioni.